Giovedì prossimo, 24 gennaio, si terrà a Roma un importante convegno sul tema della crisi dell'immobiliare e in generale dell'edilizia, organizzato dalla Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari. Ne parliamo con il presidente della FIAIP, Paolo Righi, a cui chiediamo subito quali sono le cifre salienti della crisi dell'immobiliare. In questi ultimi 4 anni la filiera dell'immobiliare, nel suo insieme ha perso 500 mila posti di lavoro. Le compravendite immobiliari dal 2006 ad oggi sono passate da 860 mila unità a poco meno di 500 mila. La pressione fiscale complessiva sugli immobili ha raggiunto oggi vette inavvicinabili. Faccio un esempio per tutti, l'IMU che è stata aggravata dal precedente aumento delle rendite catastali che ha comportato appunto un aggravio di oltre il 60% della tassa. Nel 2013 prenderà l'avvio ad esempio la Tares e una tassa che cuberà circa 2 miliardi di euro sulle tasche dei cittadini. È un carico fiscale ormai insopportabile per i proprietari immobiliari.